Cari amiche e cari amici, dal blog Duc in Altum di Aldo Maria Valli, un interessante articolo che in realtà proviene da un sito che si chiama La Entropia y La Grazia, un sito spagnolo. A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa Cattolica ha subito un processo all'insegna del disordine tendente alla dissoluzione, con un'accelerazione drammatica dovuta al pontificato di Francesco. Quando pensiamo a ciò che troverà il prossimo Papa, se ce ne sarà uno, tendiamo a convincerci che il suo primo e unico compito sarà la restaurazione. Subito dopo ci chiediamo, vorrà operare una simile ricostruzione o piuttosto intenderà accelerare il processo distruttivo? Nel migliore dei casi, se cioè sarà in grado di intraprendere la restaurazione, quanto tempo ci vorrà per riportare le cose al loro stato normale? Come dice Roger Scruton, il progressismo distrugge in pochi anni ciò che una civiltà ha impiegato secoli a costruire. Come tornare indietro? Quanto tempo richiederà il processo di riparazione? La storia ci insegna che cambiamenti profondi, dirompenti, possono unificarsi in un periodo di tempo molto breve. Due esempi recenti, Spagna e la Chiesa stessa. Franco riuscì a mantenere per quasi 40 anni un paese in cui, con i suoi vantaggi e svantaggi, venivano rispettati i principi cristiani tradizionali. Tuttavia, appena un anno e mezzo dopo la sua morte, la sanguinaria Dolores Ibaruti tornò in Spagna, acclamata dalla folla, e rimosse il simbolo del gioco e delle frecce dalla facciata del palazzo della Segreteria Generale del Movimento. E sappiamo già cosa avvenne in seguito. Un sistema che tutti credevano legato, anzi ben legato, si dissolse in un paio d'anni. Cadde negli abissi più profondi. Qualcosa di simile è accaduto nella Chiesa Cattolica. Nel giro di cinque anni o meno, in occasione del Vaticano II, subì un cambiamento radicale. Sia nei suoi aspetti esterni, sia nell'essenza in modo tale che un cristiano del 1960 avrebbe trovato la Chiesa irriconoscibile solo nel 1970. Ciò che entrambi gli eventi, e molti altri che potremmo aggiungere, hanno in comune, oltre alla rapidità del cambiamento, è che si è trattato di un cambiamento negativo, una dissipazione, dissoluzione, in altre parole, un disordine. E su questo punto mi interessa riflettere. Ho avuto occasione di parlare in queste circostanze con un vecchio e buon amico, grande conoscitore della fisica. Lui non smette di insistere sull'entropia, un concetto associato alla seconda legge della termodinamica, secondo il quale i sistemi chiusi tendono inesorabilmente al disordine. E l'entropia è precisamente il livello di disordine di un sistema. Facciamo un paio di esempi. Se gettiamo a terra un bicchiere di cristallo, tenderà a rompersi e a disperdersi. Mentre non sarà mai possibile che gettando quegli stessi pezzi di cristallo il bicchiere si ricomponga da solo. Altro esempio. Immaginiamo due recipienti da un litro contenenti rispettivamente, vernice bianca e vernice nera. Con un cucchiaio si prende la vernice bianca, si versa nel contenitore della vernice nera e si mescola. Quindi con lo stesso cucchiaio si prende la vernice nera, si versa nel contenitore della vernice bianca e si mescola. Il processo viene ripetuto fino a ottenere due litri di vernice grigia, che non possono essere trasformati in un litro di vernice bianca e in un altro di vernice nera. Una conseguenza di questa legge è che si tratta di processi irreversibili. Non si può tornare indietro. Una volta iniziato il processo di indeterminatezza entropica, è quasi impossibile tornare allo stato originale. Le possibilità che il bicchiere rotto si ricostruisca, o che le vernici mischiate tornino ad essere bianca e nera, sono rarissime e estremamente remote. Il mio amico, seguendo Simone Weil, insiste sul fatto che questa legge dei sistemi della fisica si applica anche a sistemi sociali, e sebbene la sua ipotesi possa essere contestata, gli esempi di Spagna e la Chiesa Cattolica sembrano confermarla. In tutti e due i casi si è verificato un processo entropico che nei rispettivi sistemi ha causato un improvviso disordine e che in ragione di questa stessa legge sembra avere un carattere irreversibili. Non c'è quindi nessuna speranza? Nei sistemi chiusi l'entropia tende ad aumentare indefinitivamente senza alcuna possibilità di riversibilità, ma l'unico sistema chiuso nell'universo è l'universo stesso, poiché tutti gli altri sistemi fisici hanno una sorta di interazione termodinamica con l'esterno. Per quanto una borsa in frigo o un termos siano chiusi, isolati, sappiamo che alla fine il ghiaccio si scioglierà e l'acqua si riscalderà, e su questo poggia la mia speranza. La Chiesa non è un sistema chiuso, dunque è possibile che l'azione di qualche fattore esterno, un grande santo per esempio, possa avviare il processo di ricostruzione, nella speranza che a un certo punto il bicchiere si forme nuovamente dai mille più frammenti di cristallo gettati. Tuttavia ho una speranza ancora più grande, la tingo proprio da Simone Weil, la quale scrive «Tutti i moti naturali dell'anima sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale. Solo la grazia fa eccezione. Bisogna sempre aspettarsi che le cose avvengano conformemente alla pesantezza, salvo l'intervento del sovrannaturale». Ecco, la mia versione delle parole di Simone Weil è questa. «Tutti i movimenti naturali della Chiesa sono governati da leggi analoghe all'entropia. L'unica eccezione è l'intervento dello Spirito Santo. Dobbiamo aspettarci che nei sistemi sociali come la Chiesa le cose avvengano secondo l'entropia, tranne che per l'intervento dello Spirito Santo». Articolo di Ruben Pereto Rivas. Cari amici e cari amici, è un bellissimo articolo che apre veramente le porte della speranza, perché da come ha sistemato le cose del Bergoglio la Chiesa inevitabilmente dovrebbe essere finita ormai, ma lo Spirito Santo può cancellare quella inevitabilmente finita e metterci potrà continuare ad esistere. Date un piccolo contributo al decimo toro, basta anche l'equivalente di un caffè. Ringrazio anticipatamente Marco Cosmo.